Le necessità dei clienti sono i nostri punti di partenza. Perciò, per ideare un prodotto innovativo in grado di migliorare le procedure lavorative, ci siamo recati direttamente nelle aziende. Ed è così che è nata l'idea di Muterite Automatic Antilever. Una scaffalatura in grado di compiere un movimento orizzontale verso l'esterno e in grado di misurare il peso degli oggetti sopra essa. Il tutto è collegato a un computer che permette il carico e lo scarico delle merci in autonomia. Il nostro principale concorrente è la System, che produce i moduli a scaffali automatici. I nostri punti di forza sono la scarsa possibilità di errore, il prelievo materiale svolato e la riduzione dei tempi. È possibile incentivare un guadagno in termini di tempo, denaro, efficienza e sicurezza. Motorize Automatic Antilever Migliora il magazzino per un guadagno sopraffino.